Passata un'altra giornata, nulla è cambiato per la classifica di Serie B della Futsal San Giovannese dopo lo 0-5 di Prato. A giocarsi la salvezza sono in quattro squadre, in tre punti, con più di uno sconto diretto però da disputare. Mister Toria vede comunque segnali incoraggianti. Siamo lì a gioassela, è difficile. La sabata abbiamo partito a casa dell'Elma, sono in classifica. Però sono tutte le ultime spiagge, perciò cerchiamo di dare tutto. L'unica cosa che posso, fra virgolette, promettere, insomma, nel senso di sicuro non molliamo. Nelle ultime due settimane ho visto dei segni di ripresa, anche se i risultati non sono stati dalla nostra parte, però almeno credo di aver ritrovato un pochino la squadra, cosa che nell'ultimo mese e mezzo avevo un pochino perso. Ancora qualche problema di formazione contro i Sardi. C'ho Gen che si è infortunato, mancherà sicuramente Serie Suela perché fuori con la Serie A femminile dell'Isolotto, mi ha chiesto il permesso un mese fa, mi sembrava brutto non darglielo. Poi dovrebbero entrare Giulio Ermini, credo, dall'infortunio. E quando si chiede con chi si possono fare punti, il trainer prova a scherzare. Con qualsiasi squadra, con qualsiasi squadra. Quanti punti, non lo so, io penso con sei punti, forse anche nove, perché le ultime giornate in Serie B sono sempre un pochino, non lo so, un po' strane. Ecco, c'è stato anche risultato strano come tipo Bassotti e perde in casa per Rosta. Guarda caso due squadre piemontesi, ma è anche normale, insomma. Cioè normale non è, però è abbastanza comprensibile sia così. Far fare una tosferta in Toscana o risparmiarsela per una piemontese ce ne corre. E per noi è uguale, ecco.